Il grande fratello VIP per Antonino Spinalbeso è già finito e con quella anche la storia, Love, che, aveva reso il sogno pubblico, Geniva Lamborghini, in effetti, è solo una memoria lontana, ora nella vita, fuori dalle telecamere, per l'ex stylist di capelli, c'è solo Carolina Stramare. Maggiore Antonino Spinalbeso. Nuova ragazza, ecco chi è. Pioggia di insulti Antonino Spinalbeso pensava che stesse tornando alla sua vita pacifica e serena. Ma il pettegolezzo sta rendendo il suo ritorno alla normalità un vero inferno. I suoi post su Instagram. I commenti pieni di odio sono sempre più costanti e insistenti. Gli italiani non sembrano aver perdonato Antonino le sue belle parole verso Ginevra che quindi, tuttavia, si è rivelato non verituale. L'importante è non far male. Ha detto in diretta televisiva. Accanto ad Alfonso Signorini, Ginevra Lamborghini e l'ex di Belen Rodriguez hanno risposto, ciò, lo giuro, ti giuro. Continua le frasi che hanno promesso di trasformarsi in una storia d'amore duratura. Ma che presto si è scontrata con la realtà. E il mondo del web non sembra perdonarlo. Coprendolo con insulti.il suo ultimo post. In effetti. La maggior parte dei commenti riporta la frase Ginevra e una lunga serie di commenti pieni odio. Commenti molti utenti. Il più, morbido. Lo chiamano pagliaccio e falso. Ma ci sono anche quelli che percorrono di più la mano. Vorrei che tua figlia non trovi mai uomo. Come te. Dice utente indignato. Che arrivano persino a desiderare la morte e chi probabilmente aveva già. Immaginato una tale reazione nella didascalia, scrive, libero da qualsiasi giudizio. Ma il bellissimo Antonino, forse non ha mai pensato di diventare di una vergogna del corpo. Quanto mi fa ridere è una foto che saprà ora che è 1.60p. Twitter. Vibkegevice. Creasina. 17 marzo. 2023. Nano. È alto 1,60. 50. Il problema è l'ex parrucchiere è alto 1 metro e 87 centimetri. Un'offesa. Quindi. Che il protagonista non tocca il LPI U a 100 grave molto. Ha fornito gli altri lotocino.